Trasportavano illegalmente del ferro precedentemente raccolto i tre gioresi di 21, 28 e 29 anni, sorpresi dai garabinieri del reparto territoriale denunciati all'autorità giudiziaria, devono rispondere di gestione di rifiuti non autorizzata. I tre ragazzi con precedenti penali sono stati bloccati in via dell'Acropoli, a ridosso del Museo archeologico regionale, intenti a caricare su un furgone materiale ferroso. Si tratta di pali della pubblica illuminazione, oramai pericolanti. Sul furgone, dopo un'attenta ispezione da parte dei militari dell'arma, sono stati rinvenuti anche portieri di auto, tubi, recinzioni ed altro ancora. Ai garabinieri i tre ragazzi hanno riferito che i pali della pubblica illuminazione erano stati tagliati dalla Ghelas Multiservizi e che la stessa si era rivolta a loro al fine di portarli presso un terreno di un privato cittadino al quale servivano per l'illuminazione della sua proprietà. Si trattava, è chiaro, di un fatto non vero. Il materiale ferroso sequestrato ha un peso superiore alle due tonnellate. Noi riteniamo che questo sia un materiale sicuramente di provenienza furtiva e delle quali naturalmente loro non hanno assolutamente certificato e attestato la legittima provenienza e soprattutto l'autorizzazione al trasporto. Adesso le indagini continueranno? Continueranno per accertare anche la filiera, continueranno per verificare soprattutto la provenienza del materiale. Vedremo se c'è qualcuno che ne rivendica anche la proprietà. Noi abbiamo raccolto anche l'allarme di alcuni agricoltori che si sono presentati in caserma e hanno presentato alcune denunce di furto, alcuni danneggiamenti che hanno subito per esempio nelle serre, nelle viti e su questo siamo stati molto attenti. Anzi invito gli agricoltori, vittime anche di fenomeni di pascole abusivi ad esempio, a segnalare questi fatti immediatamente, chiamando il 112, che è un ottimo deterrente. Quando la pattuglia arriva sul posto, viene identificato il pastore, non si dà contezza di chi ha chiamato al pastore o al colui il quale dovesse rendersi responsabile di un pascolo abusivo non autorizzato dal proprietario del terreno. Questo è fondamentale. Su questo io invito molti agricoltori a farlo, così come tanti agricoltori hanno lanciato a noi questo grido d'allarme dei furti nelle campagne. E noi lo facciamo anche attraverso un'attività che va a colpire la ricettazione di questo tipo di materiale. E quindi la filiera, quindi questo circuito criminale vizioso che è assolutamente importante che venga debellato e stoppato. L'occasione dell'inaugurazione di sabato della sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri al maresciallo ordinario medaglia d'oro Sebastiano Di Mè mi induce a ricordare a tutta la popolazione e ai gelesi in modo particolare che proprio in quella piazza, in Piazza Roma, sede della Compagnia dei Carabinieri, è attivo il posto fisso già da più di un anno. Posto fisso che osserva alcuni orari molto precisi che sono dal lunedì al venerdì 8.30, 11.30, 16.19 e il sabato dalle 15 alle 21.00. La domenica e i festivi naturalmente è chiuso. Invito la popolazione soprattutto del centro storico che abita in piazza ma anche nelle strade limitrofe, anziché venire qui a recarsi in via Venezia 441 dove comunque è attivo un posto per la ricezione denuncia ad andare lì presso il posto fisso Carabinieri-Gella Centro. Comunque attivo e comunque aperto.